Dopo gli ottimi riscontri ottenuti anche fuori regione, il musical Ogni Uomo Semplice, proposto dal Cenacolo Culturale Francescano Camillo Carlomagno di Agnone, fa tappa a Esernia. Ispirato dalla commedia musicale Forza Venite Gente, l'opera portata in scena dagli attori e dai cantanti alto molisani ha una marcia in più perché tutto dal vivo e alterna momenti di divertimento a scene di intensa emozione. L'appuntamento è per domani all'auditorium di Esernia a partire dalle 20 e 45, mentre al mattino è prevista una rappresentazione riservata alle scuole. Molto volentieri siamo arrivati qui ad Isernia, stiamo già preparando per domani e invito tutti quanti a venire, nel senso che è uno spettacolo da vedere perché è unico nel suo genere. Come lei diceva siamo stati anche fuori regione, a Pescara, al Teatro Massimo, abbiamo avuto grandissimo successo perché questo musical porta avanti delle tematiche sociali e quindi prende molto da vicino sia i bambini, sia i giovani, sia le persone, tutti quanti e poi è uno spettacolo, come dicevo, da vedere. La rappresentazione di scene all'auditorium è stata resa possibile anche grazie all'impegno dell'assessorato alla cultura del comune di Esernia. Domani sera avremo questo appuntamento con il musical, fortemente voluto dall'amministrazione perché questa compagnia locale, perché stiamo parlando di ragazzi, 60 ragazzi dell'Alto Molise di Agnone, che hanno avuto successo non solo nell'Alto Molise ma anche nella vicina regione Abruzzo. Naturalmente, grazie a loro, noi domani avremo la possibilità di apprezzare le loro qualità artistiche anche qui ad Isernia. E poi avete avuto un pensiero anche per le scuole? Sì, naturalmente, siccome il tema è particolarmente caro e quindi naturalmente abbiamo ritenuto importante coinvolgere in questa programmazione anche le scolaresche. Domani mattina ci sarà un mattinè dove naturalmente quindi tutti gli spettatori presenti saranno praticamente i giovani della città di Isernia. Avremo tutte le classi superiori, non soltanto della città di Isernia, ma avranno anche da altri comuni limitrofi della città.